Gli elementi per Vespai areati Cupolex assicurano impermeabilizzazione contro l'umidità e garantiscono il convogliamento del gas radon all'esterno dell'edificio, nel mentre facilitano il passaggio sotto la soletta di cavi, impianti e tubazioni. Velocemente collegati gli uni agli altri compongono una struttura autoportante atta a ricevere il getto di calcestruzzo, disponibili anche nella versione Cupolex Rialto per altezze variabili fino a 250 cm e dunque adattabili a qualsiasi forma di pianta.